piattaforma di YouTube, quindi a futura memoria. Alessandro a te la parola e grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora il mio libro si chiama Il potere, una prospettiva riformista, è uscito con la terza circa un anno fa, invece due tre settimane fa è uscito in inglese un volume dal titolo Power and Inequality con la Cambridge University Press che è un po' più ampio perché i referi inglesi hanno insistito per avere una quantità di bibliografia addizionale che però non cambia la sostanza delle cose. Io provo a fare un breve riassunto di alcune delle cose non del libro ma di quello che c'è un po' dietro e poi a seconda delle domande possiamo entrare in un argomento più o meno specifico. Il primo aspetto è che io sono un economista ma il libro ha natura interdisciplinare. Il potere visto dagli economisti in genere si riduce al problema della concorrenza, quanta concorrenza c'è, quali formi di mercato ci sono e agli interventi dell'antitrust per correggere l'assenza di concorrenza quando sia il caso. In un libro proprio dal titolo Il potere Bertrand Russell parecchi anni fa, parecchi decenni fa scriveva l'economia come scienza separata è irrealistica e fuorviante, si è presa come guida per la pratica, è un elemento importantissimo di un campo più ampio, la scienza del potere. Quando noi eravamo giovani molti di noi si sono iscritti per studiare economia, io mi sono iscritto a statistica proprio pensando di studiare una scienza sociale, quindi in collegamento con le altre materie e i nostri professori di allora favorivano molto questi elementi interdisciplinari. Per esempio ci spingevano a dare esami aggiuntivi di storia, di sociologia, di altre materie di questo tipo, piuttosto che a dare esami aggiuntivi di economia. Ora, nella mia concezione il potere è una specie di arcobaleno, cioè ha tanti colori, tanti aspetti che sfumano uno nell'altro e che non si sa bene dove inizino e dove finiscano. Quindi c'è il potere economico, il potere politico, il potere sociale, nella società sono molto importanti i poteri di rete, c'è il potere culturale e le interrelazioni tra questi tipi di potere, che gli economisti spesso non vedono, trascurano, sono spesso interrelazioni che rafforzano le concentrazioni di potere, per cui vanno studiate e anche se si cerca di ridurre la concentrazione di potere, queste interrelazioni possono essere molto utili per mettere in campo degli elementi di contrasto, delle spinte al bilanciamento del potere. La realtà poi non è mai netta, quindi nello studiare questi aspetti ci sono tante sfumature, appunto come dicevo i colori si confondono l'uno con l'altro. Quando ero giovane c'erano due concezioni contrapposte, il fodria, non so quanti di voi hanno sentito questa sigla, che era le forze oscure della reazione in agguato, che indicavano l'esistenza di una centrale mondiale che governava un po' tutto. E dall'altro lato c'è la tesi neoliberista, molto diffusa anche oggi, si parla del level playing field, del campo di gioco ben livellato, in cui tutti siamo uguali e i risultati dipendono essenzialmente dai nostri meriti e dalle nostre capacità. Ora queste due concezioni estreme sono tutte e due totalmente sballate, quindi diciamo il potere è diffuso in modo molto ineguale, la situazione tende continuamente a cambiare, magari per qualche aspetto le concentrazioni di potere si riducono ma per altri aspetti crescono e nel complesso, data la forza delle interrelazioni tra i vari elementi, se non si attiva qualche elemento di contrasto il potere tende sempre più a concentrarsi. Tra gli aspetti che impediscono di considerare il campo da gioco ben livellato ovviamente c'è il problema dell'eredità, cioè noi nasciamo in certe famiglie, la mobilità sociale implica che si passi da famiglie dei ceti più bassi a trovarsi nei ceti più alti, questo accade molto raramente, la mobilità sociale è studiata dai sociologi, i loro risultati indicano che la mobilità sociale è molto bassa e non è cresciuta nel corso del tempo, se non in brevi periodi per poi tornare semmai indietro. Per avere una mobilità sociale discreta diciamo noi dovremmo basarci su tasse sull'eredità molto alte, Enaudi diceva 33%, Enaudi era un liberale che voleva un level playing field discreto, su scuole pubbliche molto efficaci e che inizino molto presto perché ormai è chiaro che i bambini tra i 3 e i 6 anni in qualche modo assorbono il livello culturale della famiglia d'origine e quindi occorre andare all'indietro oltre che in avanti e quindi diciamo ci sono degli interventi che possono essere fatti. Dall'altro lato tra le cose che turbano il level playing field, ci sono cose che spesso di nuovo vengono dimenticate nelle discussioni, io sottolineo l'importanza della criminalità, si dice che la quota di reddito nazionale assorbita dalla criminalità sia circa il 12%, in realtà è molto più importante di questo, sia perché se uno costruisce un ponte con un po' di tangenti, lo costruisce male e il ponte crolla, i danni sono ben maggiori del valore del ponte o l'insicurezza che la presenza della mafia crea in certe zone è un freno per l'apertura di nuove attività economiche, quindi diciamo in tutto questo ci sono degli elementi pesanti che distorcono il cosiddetto level playing field. Ora io cerco di descrivere questi vari aspetti, adesso non entro in una discussione dettagliata, ho solo dato questo paio di esempi. L'obiettivo del libro è un obiettivo politico se vogliamo, l'idea che gli economisti siano neutrali nella loro attività è una corbelleria gigantesca, non siamo mai neutrali, tanto vale dire esplicitamente che cosa si cerca di ottenere. Ecco, io quello che diciamo cerco di suscitare in qualche modo è la ricerca di politiche atte a ridurre la diseguaglianza, le diseguaglianze al plurale, dato che il problema è come si diceva multidimensionale. Siccome si tratta di un problema multidimensionale è difficile dire quando le diseguaglianze vengono ridotte, magari vengono ridotte per un aspetto e accresciute per un altro, per esempio in certe fasi si dà molta importanza ai diritti civili che sono fondamentali per ridurre le diseguaglianze e si dà meno importanza alle diseguaglianze economiche, in altre fasi si dà molta importanza alle diseguaglianze economiche e meno ai diritti civili e invece diciamo bisogna dare importanza a tutti e due questi aspetti e c'è un problema culturale dietro questi tentativi perché per ridurre le diseguaglianze economiche occorre criticare delle tesi oggi prevalenti, chiamiamole neoliberismo per semplicità. Questo obiettivo Bobbio lo qualificava come la sinistra in confronto con la destra, cioè l'obiettivo della sinistra è ridurre le diseguaglianze, Bobbio non specificava di cosa. Ora questo è un modo come dire etico di definire destra e sinistra, se voi guardate invece alle definizioni descrittive di cos'è la destra e cos'è la sinistra, questo è un punto che mi aveva fatto rilevare proprio Michele Salvati, le cose sono abbastanza diverse proprio anche perché alcuni sottolineano un aspetto e non un altro. Ora in tutto questo una delle mie conclusioni è che sono molto importanti i condizionamenti internazionali e in effetti se io guardo al periodo che riprendo alla fine del libro in cui sono state fatte riforme importantissime con l'avvio del centro-sinistra negli anni 60 del secolo scorso, quella era l'epoca di Kennedy, poi sono venuti Reagan, la Thatcher, adesso il pericolo è Trump e naturalmente i condizionamenti internazionali sono di tipo più conservatore. Aggiungiamo che i condizionamenti internazionali si sono fatti più forti con la globalizzazione, però ci sono tanti aspetti che possono essere comunque perseguiti anche su scala nazionale e quindi su questo diciamo si può vedere che cosa possiamo cercare di fare con un po' di ottimismo. Io direi che mi fermo qui e lascio la parola. Grazie Alessandro, nel frattempo si è collegato anche Michele a cui diamo ovviamente il benvenuto, siamo felici di averlo con noi, ma come già stabilito anche se in sua assenza diamo la parola per prima ad Olivia Gueraldo e poi per la sua discussione e poi subito dopo arriverà Michele. Sì scusa solo per aggiungere per Michele, io ho fatto solo un breve riassuntino del libro quindi se non l'hai sentito il libro lo conosci. Indubbiamente. Michele ci senti? È riuscito? Michele riesce ad attivare il microfono? È collegato ma con microfono e video spento. Eccolo lì sì. Va bene, continuiamo con Olivia sperando che nel frattempo si risolvano tutti i problemi tecnici. Olivia, a te la parola per 15 minuti come avevamo stabilito. Grazie, mi sentite? Sì, benissimo. Sì, grazie. Allora intanto ringrazio Marcella Corsi di questo invito e ringrazio Alessandro Roncaglia di aver condiviso con me, con noi questo testo ed aver aperto la discussione oggi. insomma io sono qui in qualità di filosofa politica e non di economista però devo dire che il libro sostanzialmente tocca tutti i temi che tradizionalmente anche la filosofia politica tocca dalle istituzioni politiche, lo Stato, l'individualismo, il liberalismo, insomma come noi sappiamo che studiamo John Locke economia e politica stanno all'origine della modernità strettamente interconnesse e come giustamente diceva Alessandro Roncaglia adesso l'impoverimento dell'economia oggi consiste proprio anche in un volersi separare in qualche modo, distinguere, individualizzarsi rispetto anche alle sue origini filosofiche. era uno dei testi di riferimento di Ronchetti e Adam Smith che erroneamente solo considerato dal punto di vista economico è un importantissimo filosofo politico, è un filosofo della società potremmo dire così come lo erano Hume e appunto anche John Locke. insomma il testo appunto tocca e diciamo tenta di tenere insieme moltissime questioni, moltissimi autori che come dicevo sono familiari anche a una filosofa politica pur non essendo io invece familiare con aspetti più tecnici diciamo così dell'economia che però devo dire in questo testo lo sforzo di chiarezza e di se così vogliamo dire semplificazione per chi economista non è lo sforzo è davvero grande per cui si capisce, si coglie benissimo quali sono le questioni in campo e la questione in campo a cui faceva riferimento Alessandro Roncaglia adesso è proprio quella delle disuguaglianze di potere e se e come è possibile porre un freno diciamo così all'aumento di queste disuguaglianze che non sono solo disuguaglianze economiche ma sono disuguaglianze che hanno a che fare con il potere politico con il potere sociale e con il potere culturale quindi ci sono tutti questi aspetti delle disuguaglianze che è importante tenere presente per cercare di elaborare compito a mio avviso molto difficile una strategia se così la vogliamo chiamare di riduzione di queste disuguaglianze e io vado subito in fondo al libro perché diciamo la parte che mi ha appassionato di più è proprio quella conclusiva dove si fa riferimento a un'utopia ragionevole ma quest'idea di un'utopia ragionevole cioè dove e come sia possibile pensare a una trasformazione del presente che non sia né massimalista quindi che non ipotizzi una società perfetta in sé conchiusa insomma una sorta di stadio finale raggiungibile una volta e per sempre e che non sia nemmeno un'accettazione quindi da una parte un'utopia mi pare che usi la parola fantasiosa adesso non mi ricordo esattamente insomma un'utopia massimalista da una parte e dall'altra invece l'accettazione passiva dello status quo ecco tra questi due estremi Roncaglia pone la questione di un'utopia ragionevole di quali potrebbero essere i modi per una riduzione delle disuguaglianze in tutti questi campi quello economico, sociale, culturale e politico una riduzione delle disuguaglianze di potere e quindi una diciamo così un miglioramento generale della società allora da questo punto di vista io mi trovo molto d'accordo con l'idea della dimensione della ragionevolezza piuttosto che con la dimensione massimalista e con la prospettiva che come recita il sottotitolo del libro è appunto riformista tuttavia se posso come dire inserirmi qui come filosofa politica e fare una critica non tanto al libro ma alla impostazione diciamo così che il pensiero politico tradizionale, mainstream o se vogliamo di quella che Ann Arendt chiamava la main tradition ecco la mia critica sarebbe questa innanzitutto l'idea che il potere nella sua versione più celebre che è quella di Max Weber è una Olivia non ti sentiamo più non ti sentiamo più tu mi senti mi risulti collegata il tuo audio è aperto ma non ti sentiamo più almeno io non ti sento più ma nemmeno noi sentiamo sì nemmeno noi Marcella e vedo che tu hai delle cuffie prova a staccare le cuffie non vorrei che fossero le cuffie ti sentivamo benissimo all'improvviso la tua voce è andata via nel momento in cui cominciavi a criticare esatto c'è stato un trucco c'è stato un trucco c'è stato una censura praticamente invisibile è entrata in atto il vero potere adesso sì adesso sì adesso sì io però ho un problema non posso fare senza le cuffie per problemi di promiscuità casalinga provo a prendere delle altre cuffie a questo punto mi dispiace devono essere le cuffie che stranamente hanno smesso di funzionare non so dirti perché siamo sfortunati oggi tra i problemi di Michele mi dispiace ma è strano perché io mi sentivo e vedo anche noi ti sentivamo benissimo poi all'improvviso la tua voce è scomparsa sono andata subito a controllare il settaggio scusate ditemi adesso se mi sentite sì ti sentiamo ti sentiamo bene mi sentite bene non ti senti? sì 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 sentiamo benissimo allora cerco di riprendere cerco di riprendere il discorso da appunto se mi dite che era dalla critica ecco allora la critica semplicemente non è una critica agli intenti di questo testo che appunto condivido ma è semmai una critica a una concezione del potere che è propria della tradizione insomma del pensiero politico di quella che Anna Arendt chiama la main tradition dove per potere si intende sempre un'azione direttiva cioè potere è una relazione sostanzialmente di comando e obbedienza e quindi appunto elite che hanno potere riescono a influenzare a dirigere, organizzare proprio perché potere consisterebbe secondo questa tradizione secondo questa tradizione in una relazione di comando e obbedienza invece appunto la filosofa di cui io mi sono occupata per molto tempo di cui mi occupo ancora che è Anna Arendt cerca costantemente nei suoi testi di offrire una diversa nozione di potere cioè una nozione che più che consistere in un rapporto di comando e obbedienza alluda ad una sfera diciamo così di azione concertata di persone se vogliamo fare riferimento alla parola latina posse cioè al latino al potere come posse come essere in grado di come poter fare ecco Anna Arendt cerca di sottrarre il potere alla dimensione diciamo così dominativa o direttiva per provare a pensare diversamente sia il potere sia anche la politica questo naturalmente sono cose note non starò qui a dire ma quello che a me pare necessario in una anche in una prospettiva riformista e devo dire che in una nota sostanzialmente in una nota adesso non ricordo più in quale pagina però insomma eccola qui a pagina 214 la celebre questione della libertà degli antichi rispetto alla libertà dei moderni di cui parla Benjamin Constant nella sua conferenza del 1819 dove appunto libertà che è strettamente connessa a potere nel senso in cui io l'ho appena detto libertà per gli antichi era partecipazione attiva e costante al potere collettivo mentre la libertà dei moderni sarebbe per la maggior parte una libertà che è diciamo così slegata dal potere sarebbe una libertà individuale una libertà come dire privata una libertà legata appunto sia ad essere liberi dal bisogno ma anche all'essere liberi dal governo la concezione liberale più forte quella che appunto sta anche nei testi del nostro amato John Locke è quella di un potere politico che non sia eccessivamente costrittivo autoritario che garantisca la libertà originaria e individuale di tutte le persone allora quello che a me pare seppure siamo in un orizzonte di modernità dove le libertà individuali e diciamo così i diritti individuali ad una sfera che sia protetta dagli abusi del potere politico è una conquista importantissima diciamo mi pare che una delle malattie del nostro presente abbia a che fare proprio con il fatto che la nostra tradizione ha continuato a pensare il potere solo come rapporto di comando obbedienza e conseguentemente la libertà come libertà individuale autonomia singolarizzazione individualizzazione allora che cosa voglio dire voglio dire che porsi il problema del potere oggi deve necessariamente fare i conti con la progressiva spoliticizzazione delle nostre società che è come dire se vogliamo anche una come dire un portare a compimento progressivo quell'idea di libertà individuale su cui naturalmente si innestano il neoliberismo ma prima del neoliberismo la società opulenta il consumismo e tutte le altre questioni che fanno sì che per dirla in termini molto drastici l'ipertrofia dell'individuo porta oggi ad una passività nei confronti della politica ad una passività che ha a che fare anche con una sorta di cinismo di disaffezione no cioè quello che io voglio dire è che forse il problema del potere deve anche considerare il fatto che alle persone non interessa il potere nella misura in cui è potere politico garantito dalla nostra costituzione in termini di partecipazione politica e io faccio sempre questo esempio che mi perché diciamo così mi occupo di queste questioni sia da un punto di vista della ricerca cioè della spoliticizzazione del disinteresse per la politica sia dal punto di vista anche come dire esistenziale e l'esempio che io faccio sempre è questo molto spesso oggi le giovani generazioni che vogliono impegnarsi in un bene comune che è una una parte importante anche del libro di Alessandro Roncaglia parla del bene comune insomma chi oggi tra i giovani vuole occuparsi di bene comune rifiuta totalmente la politica e va diretto alla dimensione del volontariato o dell'attivismo diciamo così dell'attivismo nei movimenti ma soprattutto nel volontariato un luogo dove come dire l'agire insieme di concerto è possibile ha senso fa senso e però è importante segnalare questo aspetto cioè è importante segnalare come la politica il luogo preposto al potere al potere decisionale ma anche appunto al potere democratico finisce per non interessare ma non perché siamo solo cinici disillusi completamente individualizzati c'è sicuramente anche questo aspetto ma anche nelle persone come dire dedite interessate al bene comune la politica è un ambito che non interessa la politica è un ambito che viene fuggito proprio a gambe elevate allora che cosa è questo come dire un segnale che la politica deve cambiare le sue cioè che una prospettiva riformista che non si occupi solo di economia ma anche di politica prenda sul serio anche questa crisi che non è solo una crisi delle elite è una crisi uso questa parola che totalmente desueta oggi delle masse c'è una crisi di disinteresse verso la politica lo vediamo attraverso naturalmente l'astensionismo alle elezioni ma lo vediamo anche a livello proprio concreto di partecipazione quindi mi pare che porre la questione del potere solo dal punto di vista di una appunto relazione comando obbedienza o relazione direttiva light and death diceva Max Weber non ci permetta di vedere invece ex parte populi potremmo dire il disinteresse che serpeggia e come e come affrontarlo no come non dico risolverlo ma come problematizzarlo questo disinteresse perché lo ripeto non è solo un disinteresse dell'astensionismo cioè non è solo un disinteresse dei singoli appunto presi esclusivamente dal sopravvivere tra molti lavori o dall'essere più interessati a stare sul divano a guardare delle serie su Netflix che andare a una riunione politica ci sono sicuramente anche questi ma se escludiamo questi e prendiamo le persone sinceramente interessate al bene comune non scelgono la politica non scelgono l'impegno politico ma scelgono piuttosto altre forme di rete che è un altro elemento che Roncaglia cita allora questa sarebbe diciamo così non certo una critica ma il tentativo di allargare la discussione appunto a questa dimensione che a mio avviso ripeto tornando a quello che dicevo su Ann Arendt ha a che fare con il fatto che gli esseri umani non sono solo agenti razionali che agiscono nel loro self interest o che agiscono solamente rispetto all'utile cioè giustamente Roncaglia nel libro critica diciamo così il paradigma dell'homo economicus gli esseri umani hanno questa e questa è un'altra diciamo così affermazione arentiana e se vogliamo anche della riflessione femminista sulla politica gli esseri umani sono esseri relazionali e sono esseri costitutivamente socievoli non è la socievolezza una sorta di aggiunta no di come dire di dimensione secondaria rispetto a una dimensione più originaria che sarebbe l'agire secondo il proprio utile individuale c'è una dimensione di relazionalità costitutiva e di socievolezza costitutiva che a mio avviso va presa in esame e va fatta reagire rispetto all'individualismo metodologico che che molta di questa main tradition sia del pensiero politico che del pensiero economico assume come data invece come la riflessione femminista insegna l'individualismo è esso stesso forse una finzione una finzione utile beh sicuramente all'inizio della modernità escludere le donne da questa categoria che non di cui non possono godere dei diritti dell'uguaglianza e libertà naturali le donne non partecipano di questa libertà a uguaglianza naturali perché sono naturalmente private in politiche e quindi sotto l'ala protrettrice del padre o del marito però se la riflessione femminista ha segnalato che l'individualismo metodologico è una finzione o è un'ipotesi e non è diciamo così l'unica dimensione di verità rispetto all'umano il suggerimento mio insomma non il suggerimento mio Alessandro Roncaglia ma il contributo che vorrei dare alla discussione è che sia necessario prendere in esame altri aspetti della dimensione costitutiva dell'umano che sono la socievolezza che sono la relazionalità costitutiva e che dovrebbero trovare nella politica nel senso virtuoso del termine uno spazio di espressione la politica non è solo amministrazione la politica non è solo attività direttiva ma la politica dovrebbe essere anche un luogo di senso in cui insieme insieme impariamo a decidere i modi in cui organizzare il mondo che ci appartiene ecco a me pare che questa dimensione manchi e che manchi costitutivamente nella politica o forse oggi manchi più di sempre perché proprio perché alla politica non si dedicano le menti migliori della nostra società la politica diventa appannaggio solo di chi persegue una propria carriera personale però ecco la politica dovrebbe chiedersi anche dove sono le sue risorse diciamo così di piacere di piacere della condivisione di piacere dell'agire di concerto perché proprio secondo me questa riduzione della politica qualcosa di arido astratto estraneo che allontana molte persone ma che in realtà nel suo senso più nobile virtuoso la politica avrebbe come appunto partecipazione partecipazione alle decisioni partecipazione al potere e in questo senso seppure aderisco a una prospettiva riformista mi pare che sia necessario a un certo punto assumere anche uno sguardo radicale e chiedersi se le forme della rappresentanza oggi ancora in funzione forme pensate molto tempo fa in società molto diverse dalla nostra ecco se le forme della rappresentanza e della democrazia rappresentativa possano ancora tenere di fronte alle derive di spoliticizzazione di diciamo pulsioni autoritarie che non solo fuori dall'Europa ma anche dentro l'Europa noi abbiamo io mi fermerai qui ho detto forse troppe cose anche in maniera grazie Olivia no no hai aperto molti molti canali di riflessione comune fra l'altro in parte anche introducendo il prossimo libro che presenteremo la prossima settimana e sono felice che ci sia anche Orzetta qui con noi ma chiederei subito a Michele di aprire il suo microfono sperando che tutto funzioni Michele ci senti e puoi parlare? Nel frattempo Marco ha dialogato con Michele per il cellulare eccolo qua eccoci fantastico va bene magnifico grazie Michele grazie infinite sei riuscita ad ascoltare nel frattempo? tutto ho ascoltato in particolare le ultime cose di Olivia ovviamente conoscevo molto bene le posizioni benissimo allora ti do subito la parola dico soltanto prima di dartela che nella chat io ho messo vari link a recensioni del libro di Alessandro ho messo anche un link specifico ad una sua intervista in lingua inglese tra gli studenti e le studentesse leggono preferibilmente l'inglese e ovviamente ho anche messo il link alla pagina di Olivia per chi volesse approfondire soprattutto il suo lavoro su Anna Arendt Michele Salvati credo non abbia bisogno di presentazione quindi do immediatamente la parola a lui prego Michele grazie cara io vorrei partire dico subito una cosa su quanto ha detto Olivia ho sentito molto attentamente l'ultimo pezzo no tutto quanto voglio dire mi è stato interrotto ma quanto dicevo Olivia da ultimo il riferimento a Anna Arendt poi si è fatto il riferimento anche ad altri autori e autrici voglio dire questo perché è una domanda molto forte impellente voglio dire e il problema è un problema particolarmente sentito e grave voglio dire però la cosa che voglio dire rischia forte di condurre al di fuori di quella visione è tutto considerato che gran parte dei filosofi politici individualisti naturalmente e soprattutto molto al di fuori delle possibilità della democrazia così come è stata costruita questa è la democrazia rappresentativa e lo stato liberale come è stato costruito lo stato di diritto per intenderci voglio dire questa è stata una costruzione che ha reso necessari secoli per approfondirsi per estendersi e per includere anche alcuni degli elementi e dei valori su cui Olivia tendeva accettuare le intenzioni e le parole di Olivia abbiamo fatto un po' pensare a se è possibile in realtà costruire una società che si sta allargando ormai a milioni e miliardi di individui per parlare degli stati nazionali più grandi delle grandi potenze cioè quelle che decideranno il destino del mondo sulla base di queste lofty aspirations di queste nobili aspirazioni nel senso se queste non devono essere in condizioni individualistiche le aspirazioni e le pratiche sociali di gruppi più piccoli all'interno di un ammontare molto ampio di persone che hanno aspirazioni diverse cioè da questo punto di vista io sono molto un un filosofo scozzese voglio dire che che detesta qualsiasi o comunque trova pericoloso qualsiasi accenno all'idea di costruire un uomo nuovo o una donna nuovi cioè e rendila dominante non è certo non è certo questo diciamo ovviamente l'aspirazione di Olivia ma questo può essere reso compatibile no perché questo prodotto i disastri i disastri degli stati totalitari naturalmente su quali Anna Arendt ha scritto parole cose ancora più importanti e soprattutto più note che non quella a cui faceva riferimento Olivia no quindi diciamo sicuramente erano uomini diciamo i grandi movimenti autoritari prendiamo il comunismo prendere quello che aveva una partenza più nobile l'altro era squalificato fin dall'origine voglio dire il nazismo il fascismo vediamo il comunismo la partenza è nobilissima la stessa costituzione comunista tanto per intenderci se uno la legge senza pensare a che cosa effettivamente è stato nella pratica del comunismo è una costituzione bellissima andate a leggerla ve lo sono letta ai suoi tempi voglio dire una cosa e però questa ha costruito un mostro cioè uno stato totalitario uno stato di costruzione autoritaria di un uomo nuovo cioè mettere insieme le necessità della guida politica di grandi paesi in lotta tra di loro con le esigenze nobili e profonde quelle che rappresentava Olivia che io stesso condivido pienamente naturalmente anche se purtroppo essendo grandicello volontariato ne faccio poco a meno di non considerare la politica una forma la politica come l'intendo io come forma di volontariato ma in ogni caso questa cosa qui è stata un disastro credo che Olivia ne sia consapevole e sappia quanto è difficile cercare di combinare una visione scozzese dei limiti della politica rispetto una visione invece questa autoritaria come di fatto si è realizzata e nel comunismo si è realizzata proprio aspirando a costruire delle persone in cui la partecipazione politica fosse massima no? la più estesa possibile e dopo si è visto che questo non è possibile nei grandi stati moderni quelli a cui si spinge in continuazione il progresso tecnico la globalizzazione in cui siamo pienamente immersi e in questa situazione di costrizione da parte diciamo dell'individualismo dominante magari ci fosse voglio dire che è pieno e no e che che rende così difficile attuare alcune delle aspirazioni che è così così belle che ha sottolineato Olivia queste in condizioni anche nelle condizioni ottimali anche in condizioni di grandi stati individualistici che però rispettino criteri di liberalismo come quelli che abbiamo cercato di descrivere in un libro recente insieme con il mio amico Dilmore no? di liberalismo accettabile e moderato queste queste sono è la grande difficoltà per darmi un'idea no? io semplicemente mi limito adesso iniziando a leggere il la prima la prima pagina il la pagina del titolo no? il pronto spizio di del nostro caro amico e c'è una lunga frase no? in realtà è uno strano diciamo modo di presentarlo perché c'è Alessandro Longaglia il potere una prospettiva riformista e fin qui è tradizionale ma poi c'è una lunga frase che vorrei leggere interamente perché Giappone il problema con grande chiarezza chiunque desideri migliorare la società in cui viviamo deve porsi il problema del potere perfetto non si tratta di elaborarne una teoria astratta ma di analizzarne i diversi aspetti per un uso politico aggiunge finalizzato alla riduzione delle diseguaglianze di potere domanda se riduci tutte le diseguaglianze di potere non c'è il rischio di anarchia cioè non c'è il rischio che non riesci a governare società così complesse e così grandi come quelle che noi abbiamo nel quale noi viviamo occorre avere in realtà un'idea diversa di affrontare il problema non tutte le diseguaglianze di potere ma le diseguaglianze di potere ingiuste e facilmente eliminabili rimanendo in uno stato sostanzialmente liberale uno stato di diritto liberale e solo queste le diseguaglianze che devi eliminare cioè occorre in realtà per affrontare questo problema avere previamente un'idea di società giusta di conciliazione realistica dei principi di libertà e uguaglianza che sono principi incardinati diciamo in un'idea di società giusta per capire se il potere che è inevitabile è un potere giusto è un potere accettabile in una società giusta e scrive un libro come quello di Alessandro no è un modo per cavarsi l'impiccio perché tranquillamente fa un insieme di esempi con i quali non possiamo non essere se non totalmente d'accordo ma il problema di una società giusta il problema che il massimo filosofo politico dei nostri del secolo scorso John Rawls si è posto è totalmente lasciato da parte ma anche i problemi che in forme diverse senni o in forme diverse secondo me inaccettabili altri ancora voglio dire si sono opposti cioè il problema deve partire dall'idea di società giusta di quali sono le diseguaglianze di potere ingiuste non compatibili no con con libertà eguaglianza e quella che una volta si chiamava fraternità che vuol dire coesione sociale potremmo riformulare in condizioni di democrazia politica quale è quella a cui siamo arrivati perché al di fuori di quella qual è diciamo in grandi stati una concezione di democrazia politica certo ci saranno poi gli esempi sarà oggi poco interessante perché funziona male questa democrazia politica funziona male sono d'accordo con Olivia che funziona male però quale può essere al di là diciamo di una democrazia rappresentativa rappresentativa in cui sono eletti un insieme di rappresentanti e tramite questi o addirittura come vuole da Meloni adesso prima di questi il loro capo vuol dire no una singola persona è scelto dai cittadini e questo è un po' il problema cioè esiste un'alternativa moderatamente realistica tale per cui gran parte dei cittadini siano indotti spontaneamente e praticamente sottolineo spontaneamente a occuparsi di volontariato come vorrebbe Olivia occuparsi del bene degli altri come vorrebbe Olivia eh ce ne sarà un gruppo che sarà molto interessato a questo ma ci sarà un gruppo di persone perfettamente tranquille normali eccetera voglio dire accettabili simpatiche che di queste cose qui non si occuperà si occuperà di pesca si occuperà delle loro piccole passioni private no si occuperà delle cose che gli interessano di più ma non necessariamente di intervenire per aiutare gli altri questo è un qualcosa in più eh poi i modi con cui questo poi si è fatto sono è questo il problema il problema che volevo oppure alla vostra attenzione e sono molto contento che abbia parlato Olivia prima di me perché in un altro modo di in realtà tirare fuori queste cose che non avrei neanche detto perché le consiglio dai presupposti basici cioè elementari no e accettabili voglio dire la democrazia com'è adesso la democrazia rappresentativa nel contesto di uno stato di diritto liberale eh di liberalismo come diciamo io e questo mio amico Dilmo di liberalismo inclusivo il più possibile inclusivo cioè attento no a evitare grandi differenze sociali no attento a evitare grandi differenze sociali come è possibile no fare diversamente da così ma questo significa naturalmente che coloro i quali in particolare come vocazione personale no si occuperanno degli altri che saranno un gruppo relativamente ristretto perché il grosso della gente sembra di pesca di basket di qualsiasi cavolo delle cose che le persone non si interessano che la gran parte della gente è gente simpatica gente normalissima non possiamo costringerli a fare volontariato e aiutare gli altri per carità non dico che Olivia vuole costringerli ma se siamo all'interno di una società eh di uno stato di diritto liberale e di liberalismo inclusivo no che è riuscito a espellere i principali motivi di frizione i principali motivi di incattivimento di diseguaglianza ingiustificabili da tutti i punti di vista incluso un punto di vista liberale e un vero punto di vista liberale ci sono situazioni appunto i veri liberali se prendiamo lo stesso Luigi Einaudi le idee diciamo sull'eredità che aveva Luigi Einaudi erano le idee che rispetto ad oggi sarebbero rivoluzionari da questo punto di vista ma l'idea che avevano i grandi neoclassici contro i quali se la prendono Cagliari i grandi studiosi neoclassici no Wixell Wixell avete mai studiato Wixell no le idee di Wixell ma Wixell sarebbe un pazzo un anarchico per alcuni neoclassici di oggi questo è un po' quel problema portando diciamo ed è questo il problema che volevo è un problema importante e questo ti porta al problema ovviamente molto importante del fatto che ovviamente che Roncaglia non si occupa di questi grandi pensatori a fondo non si occupa di pensatori che hanno pensato diciamo alla società giusta a una società accettabile che riesca a coniugare insieme individualismo cioè sostanzialmente libertà libertà di fare le cose che ti sono gradite e che non nuociano agli altri ma anche cose molto cose banali libertà per usi banalissimi per giocare a basket hai capito questa è la cosa che libertà è uno stato di eguaglianza no accettabile ma non estremo voglio dire quindi che grosso modo sostanzialmente l'ideale sarebbe ma questo lo ripete Rawls lo ripete anche Senni ma anche in forma anche più più pesante incisiva che non Rawls per molti aspetti no sono appunto lo ripete infinite volte voglio dire no cioè tu devi estrarre dalle persone non soltanto le persone possono essere subornate dalla pubblicità subornate cioè illuse da sciocchezze eccetera devi cercare di estrarre da loro quali sono i loro desideri veri i loro più no ma in modo le devi fare in un modo gentile e liberale devi farli esprimere da loro queste cose qui da quel che vogliono e questo è l'unico modo in realtà la grande costruzione la società moderna nasce come società liberale il liberalismo è la base di tutto la modernità nasce lì e questa è la cosa e i filosofi a cui facevo riferimento sono i grandi filosofi liberali ma io ci metterei in origine persino Hobbes che è alla radice di tutti questi perché vede il grande problema della sicurezza di un paese che deve diciamo difendersi dai nemici esterni e dai nemici interni e lo pone come primo requisito voglio dire come requisito fondamentale per non finire in quella situazione in cui la vita è brutish and short brutale e corta perché era brutale e corta quando non c'era uno Stato che difendeva dai nemici interni e dal nemico esterno e sono i problemi che ci sono ancora oggi enormemente complicati dal fatto che le grandi potenze esistenti la Cina è uno Stato autoritario guardate che questo Stato autoritario non significa affatto che questo Stato non abbia bisogno di un consenso ha bisogno di un profondo consenso ed è questo il problema tragico della Cina un consenso che però si basa su una continua crescita del reddito crescita del benessere perché se questa non c'è il consenso non c'è e il potere del partito comunista cinese evapora e questo è il terrore di Xi e questo è il suo terrore davanti a quel che sta succedendo in Cina adesso ma questo veniva voglio dire se non c'era consenso il potere evaporava anche nel fascismo nel nazismo e il consenso è una forma che si può ottenere in vari modi che non sono modi gentili attraverso l'indottrinamento diciamo delle forme delle forme di potere ideologico estremamente pesanti e vincolanti prendete sempre Anna Arendt guardate il suo libro sul totalitarismo e la sua equiparazione che allora fece scandalo tra il totalitarismo sovietico e il totalitarismo nazista ma guardate lei fa una piccola eccezione addirittura a favore del totalitarismo nazista perché quantomeno lasciava quel tanto di libertà economica cioè manteneva le libertà le imprese che invece il totalismo sovietico era totalmente eliminato fece scandalo perché nessuno voleva credere che un partito che sia dato una così bella costituzione per un partito che aveva portato le estreme conseguenze stupende le reti di Gracova Boeuf dei grandi Giacobini l'idea di eguaglianza come idea di base che aveva portato all'estremo una cosa del genere andasse a finire in uno stato totalitario era quasi incredibile che questo finisse ebbene non è per niente incredibile e lo dice Anna Arendt ma se Anna Arendt dice questo e dice anche le cose che dice Olivia naturalmente ebbene si viene a creare una cosa per cui in realtà dobbiamo stare infinitamente attenti a eliminare le forme di democrazia parte di partecipazione democratica anche diciamo deludenti come quelle che come quelle che noi abbiamo adesso deludenti come quelle che noi abbiamo adesso molto attenti no perché non sono forme estensibili no al reggimento di grandi stati questo è e noi siamo usciti dalla situazione ovviamente di dell'attica di Solone in cui tutti erano praticamente tutti poi tutti non le donne non i meteci non gli schiavi diciamo un quarto della popolazione a essere molto gentili voglio dire potevano partecipare direttamente alle assemblee politiche ciò che non si può fare voglio dire no ovviamente i grandi stati moderni attenti attenti attenzione Michele perdonami ti devo interrompere perché dobbiamo lasciare un po' di spazio per le domande mi dispiace perché ti starei a sentire per delle ore ma mi va bene così con questo attenti secondo me era perfetta come chiusura quindi mi sembrava veramente un monito comunque nel frattempo in chat ho messo molti link lo dico sempre per studenti e studentesse che ci stanno ascoltando anche se alcuni ed alcune ovviamente sono andati via al cadere dell'ora perché ovviamente era quello il loro tempo allora ho scritto in chat chi ha domande ovviamente le può scrivere anche direttamente lì oppure c'è libertà di aprire i microfoni purché siano interventi brevi perché essendo un evento registrato capite bene che non possiamo andare oltre i 90 minuti altrimenti non lo sentirebbe poi più nessuno cosa faccio disattivo l'audio sì ti affavori Michele solo l'audio se puoi sì quindi in chat se ci sono delle domande dopo tutti i link che ho messo oppure ecco Paolo Ramazzotti ha alzato la mano benissimo Paolo a te la parola mi sentite sì sì ti sentiamo benissimo bene credo che già gli interventi abbiano ruotato intorno a a che cosa sia poi questa utopia ragionevole rispetto alla quale si colloca il potere e io molto così sinteticamente chiederei come si colloca rispetto a tre tipi di disuguaglianze la prima mi permetto di citare uno scrittore Santiago Amigorena che in un suo romanzo intitolato Il Ghetto Interiore dice una delle cose più terribili dell'antisemitismo è che non permette alle persone di smettere di pensarsi come ebrei li confina perché li confina in questa in questa identità decide cosa loro sono ecco il senso è una volta che i rapporti di potere che definiscono i rapporti razziali fanno sì che io mi identifichi come ebreo non riesco a non essere altro che ebreo ecco un discorso simile credo che lo faccia Sen rispetto alle donne quando parla della donna indiana che interiorizza il suo ruolo subordinato di donna e lo stesso tipo di problema credo che si ponga qui verrebbe da citare qualche film di Ken Loach ma quando gli operai che subiscono tutti tutte le conseguenze del neoliberismo interiorizzano le regole del mercato e le compatibilità definite dal neoliberismo e finiscono per votare per Thatcher per Trump e così via ecco a questo punto come si colloca il discorso del potere rispetto alle disuguaglianze grazie grazie Paolo grazie mille in chat non vedo altre domande mani alzate neanche coraggio non perdete questa occasione chi vuole intervenire così intimiditi dai nostri discussant nessuno nessuna allora do la parola direttamente ad Alessandro per una breve replica se nel frattempo vengono domande ovviamente ti avverto Alessandro sì d'accordo grazie Olivia grazie a Michele grazie ai due Micheli dunque cerco di essere rapidissimo c'è stato un equivoco di partenza in quello che diceva Michele ridurre le disuguaglianze non significa abolirle questo sarebbe impossibile quindi le disuguaglianze che restano nella tecnica di rappresentazione inevitabile per una società ampia rappresentanza politica qualcosa resta di disuguaglianze perché il potere viene delegato dalla massa dai votanti ad alcuni quindi l'anarchia non c'entra nulla con la riduzione delle disuguaglianze di potere riduzione quello che io vorrei evitare è proprio l'idea di una società perfetta in cui le disuguaglianze vengano abolite perché come diceva Michele nel nome di questa utopia si sono commessi i peggiori crimini quindi io cerco di descrivere quali sono i problemi di disuguaglianza di potere quali sono i meccanismi che portano ad aumentare le disuguaglianze e quali sono gli elementi che permettono di ridurle sono un complesso intricato è difficilissimo dire questa è la soluzione la soluzione va cercata in un complesso integrato di interventi politici questo è quello che cerco di dire l'utopia ragionevole che tra l'altro è un'espressione che usava il mio amico Roberto Villetti nelle discussioni che abbiamo avuto per 50 anni e l'abbiamo utilizzata per prima in un articolo che abbiamo scritto insieme e poi abbiamo continuato a utilizzarla e poi l'ho continuata io quando lui è morto ho scritto il libro questo è l'aspetto da tenere presente Michele nelle discussioni che abbiamo avuto mentre scrivevo il libro sono discussioni che abbiamo da 50 anni immagino se non di più cercava di persuadermi a partire dall'idea di partire dall'idea di giustizia e io mi sono rifiutato perché proprio penso che partire dall'idea della società giusta ci porti a ripetere cose già dette molto meglio di quello che posso fare io dai grandi filosofi politici ma anche in strade cieche perché prendiamo gli scritti di Rawls il principio di eguaglianza di Rawls è stato subito criticato da Senna perché era troppo ristretto secondo Senna e qualsiasi idea tu abbia di una società giusta alla fine scoprirai che è o inapplicabile a una società reale o troppo ristretta per essere applicata quindi il riformista parte dalla descrizione della situazione com'è e da quello che si può fare per cambiarla non dalla società giusta perfetta quindi vedendo il potere come concezione complicata nel primo capitolo io faccio una brevissima rassegna molto insufficiente delle varie concezioni di potere inclusa quella di Weber ma non è l'unica concezione il potere come rapporto di comando obbedienza non è la nozione più importante di potere dal punto di vista dell'economista perché l'economista quello che vede è più come dire la differenza di potenziale non il rapporto immediato di comando la differenza di potenziale che deriva proprio da un diverso controllo delle ricchezze eccetera ecco la libertà dei moderni la libertà degli antichi beh quello che ricordava Michele che ricordavo anch'io richiamando Rosselli giustizia e libertà è che non si possono distinguere queste cose in pratica se abbiamo una concezione multidimensionale del potere di come vogliamo combattere la concentrazione di potere dobbiamo guardare sia ai diritti individuali sia alla giustizia sociale e uno degli errori è stato proprio quello di sacrificare come hanno fatto i marxisti da un lato le società comuniste la libertà individuale alla ricerca di una maggiore eguaglianza economica di una soluzione dei problemi anche della semplice sopravvivenza di sacrificare a questi diritti individuali o dall'altra parte come viene fatto nelle società ultraliberiste di guardare alla estrema libertà di ciascuno inclusa quella delle grandi società per azioni delle grandi megacorporation di fare quello che vogliono disinteressandosi dell'insieme della società da questo punto di vista l'idea di bene comune che io propongo è più simile a quella che proponeva Michele che a quella che richiamava Olivia guardando al volontariato questo è uno scontro che noi abbiamo per altri aspetti con i gruppi che considerano economia civile l'insieme delle società del terzo settore è una discussione che ho con Giulio Guarini con altri ecco l'economia civile è una società in cui si cerca di intervenire anche tramite le istituzioni non solo come gruppi ben pensanti l'idea la critica del homo economicus come la facciamo richiama alla nozione di Smith di un individuo che persegue un interesse personale sì ma un interesse personale illuminato dal riconoscimento dell'esistenza degli altri diciamo dalla vecchia idea aristotelica che diciamo la società è sì homo homo sum nilumania me alienum puto diceva Terenzio sono un uomo non considero niente che sia umano come dire contrario a quello che penso io il rifiuto della politica è uno dei problemi tragici di oggi bisogna capire da dove viene e che cosa si può fare per contrastarlo viene dalla crescita del neoliberismo e per contrastarlo bisogna combattere l'ideologia neoliberista l'ideologia neoliberista abbraccia tutti i campi ma ha delle radici micidiali in campo economico nelle diseguaglianze di potere economico quando noi parliamo di alcuni aspetti salto da una cosa all'altra per rapidità di per esempio la difesa dell'ambiente noi non abbiamo idea dice gli ambientalisti non hanno idea di quanto ha contato nel sostenere il negazionismo ambientalista gli interventi della Exxon e di altre compagnie petrolifere sul dibattito scientifico culturale ecco queste sono le cose che vanno considerate se noi non combattiamo questo potere economico concentrato devastante noi non riusciremo nemmeno a avviare una battaglia culturale e d'altra parte avviare una battaglia culturale combatterla con tutti gli strumenti di logica di scienza di razionalità e anche di passione che possiamo avere è indispensabile per accompagnare il conflitto il contrasto alla concentrazione di potere economico quello che io cerco di sostenere è proprio che dobbiamo smettere di cercare la società perfetta e incominciare a cercare di costruire una società meno imperfetta Adam Smith parlava di questa argilla imperfetta di cui è fatto l'uomo richiamando un po' la Bibbia Kant pochi anni dopo riprende questa metafora e parla di questo legno storto di cui è fatto l'uomo questa è la concezione della dell'essere umano sulla quale noi dobbiamo basarci non siamo perfetti ma non siamo nemmeno così male potremmo riuscire a combattere per una società più giusta se riusciamo a eliminare queste concentrazioni di potere che ci impongono un dibattito univoco sulle impostato nel modo che è desiderato dalla Exxon in campo ambientale o da altre società in altri campi cosa significa utopia ragionevole rispetto a queste diseguaglianze ecco il problema è proprio quello non significa una cosa io non posso in un minuto dire cosa significa utopia ragionevole utopia ragionevole significa tante cose diverse io faccio l'esempio di quello che si è fatto da parte del primo centrosinistra negli anni sessanta si è fatta la riforma della scuola media unica cioè una minore diseguaglianza nel campo culturale accompagnata dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica cioè dalla come dire azione di rottura nei confronti di un centro di potere economico che era micidiale per il sostegno che dava alle posizioni più conservatrici assieme all'avvio di uno statuto dei lavoratori che ha riequilibrato il potere contrattuale dei lavoratori eccetera assieme all'istituzione dello stato sociale con la sanità estesa a tutti questa non è una riforma sola è un riformismo ragionevole composto di tanti aspetti una delle mini proposte che ricordo perché non è mia verso la fine del libro è di estendere la scuola non in avanti come si è fatto con la riforma della scuola media unica ma all'indietro verso un asilo più aperto e statale cioè non differenziato a seconda delle convinzioni perché in quell'epoca come dice Maffei un mio amico neuro psicologo che è in quell'epoca che si forma la come dire meglio la personalità e anche le capacità intellettive dei bambini un accenno a una cosa siccome si è parlato delle della questione femminile nel libro richiamo un dibattito che c'è stato tanti anni fa proprio tra Smith Adam Smith e Ponal Smith dice attenzione le differenze di capacità sono essenzialmente non innate ma acquisite per cui non c'è una grossa differenza innata tra l'uomo e la donna qualche differenza ci sarà pure innata non si può negare o tra individui vari ma la maggior parte le differenze sono acquisite immediatamente gli risponde un conservatore Ponal dicendo questa è una fesseria le differenze di capacità sono soprattutto acquisite di recente di recente mezzo secolo fa un economista neoclassico Samuelson famosissimo riprende questa tesi per spiegare la differenza di reddito tra uomini e donne suppone che le donne siano più brave degli uomini sia nella caccia grossa che nella caccia minuta ma che abbiano un vantaggio maggiore nella caccia minuta e quindi succede che le donne si debbano concentrare per via della pressione concorrenziale che porta ogni gruppo a fare quello che conviene da un punto di vista di maggiore produttività del sistema si debbano concentrare sulla caccia minuta mentre gli uomini si debbano concentrare sulla caccia all'ingrosso ora Margaret Mead come ricordo nel suo libro che è considerato un po' la nascita del filone di ricerca femminista fa proprio un'analisi che sostiene la tesi di Smith guarda le differenze tra alcune società primitive che hanno delle differenze istituzionali nei rapporti tra uomini e donne e mostra come le varie società si sono sviluppate nei modi più diversi con i rapporti più diversi tra uomini e donne partendo da una base comune non c'è nessun motivo per cui alcune siano andate in una direzione e altre in un'altra non c'è nulla di naturale in tutto questo ora questo tipo di discussione è una discussione se vogliamo teorica che però serve come base per capire che noi non dobbiamo combattere la natura dobbiamo modificare la società questo è il vero aspetto ma non modificarla avendo in mente la società ideale in cui c'è la perfetta eguaglianza dobbiamo modificarla con azioni mirate a un campo un altro un altro la scuola le regole della borsa le regole del commercio internazionale le regole sulla privacy le regole eccetera per modificare la situazione di crescente diseguaglianza nella quale ci troviamo grazie 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 mille purtroppo il tempo è tiranno quindi devo chiudere la registrazione ma